Un bambino nato da un'ora è stato trovato vivo all'interno di un bidone della spazzatura in un bagno di una stazione di servizio Fullerton in California nel pomeriggio del 9 marzo. Il neonato era stato messo in un sacchetto ed è stato trovato da un impiegato della stazione di servizio secondo la CBS di Los Angeles. Portato nell'ospedale di Orange risulta ricoverato in gravi condizioni. Ora le forze dell'ordine stanno cercando la madre.